Voi dovete stare attenti quando mi incontrate in strada, hai capito? E anche te Andrea Carpi devi stare attento quando mi incontri in strada, capito? Perché davanti a me non c'è giudizio. Faccio vedere una cara amica, una cara amica che si vede, si vede. E questa è la morte, e questa è la morte, la morte ha cercato di colpirmi undici volte, ma non è mai riuscita ad arrivarmi, perché sono stato io più forte della morte. Ho la morte, che è venuta a trovarci stasera, la morte ci cammina dietro, vero? Mi cammini dietro piccolina, eh? Mi cammini dietro. Lo sai che mi sembri un'amicetta a volte? E tu, e tu vuoi ostacolarmi, tu vuoi mettermi delle sbarre davanti, vuoi mettermi delle prove, ma è molto difficile con me, lo sai, perché io sono più forte. E tu, e tu vuoi mettermi, tu vuoi mettermi, tu vuoi mettermi. Un polvo!